Era un provvedimento che avevamo già annunciato nelle scorse settimane, nelle scorse giornate. Si arriva a questo provvedimento che per noi ovviamente è un motivo d'orgoglio perché ormai ci lavoriamo da un po' di tempo. Si conclude un periodo che non sappiamo, ovviamente anche alla luce di quella che è la legge regionale che è stata approvata, cosa prevederà in futuro. Però è chiaro che la città metropolitana ancora per via della funzione che si ritrova delegata ha continuato come era giusto fare su quelli che erano gli intendimenti di questo Consiglio metropolitano. E quindi siamo arrivati all'approvazione di questo importante provvedimento che vedrà da qui alle prossime ore la firma della mia ordinanza con una mia ordinanza dell'apertura della discarica di Melicucca come centro di stoccaggio un qualcosa di cui il territorio lo attendeva ormai da parecchio tempo e quindi si arriva alla conclusione di un percorso. Vorrei precisare anche dopo aver atteso quelle che sono state le determinazioni anche dell'ARPGAL sulla sicurezza del sito che ovviamente questo rassicura non soltanto chi legittimamente ha posto delle obiezioni nel tempo ma rassicura anche noi amministratori che ovviamente non firmiamo un atto così a cuor leggero ma nella totale sicurezza per il nostro territorio e per i nostri concittadini. Il piano prevede l'organizzazione sul territorio metropolitano del ciclo integrato dei rifiuti quindi all'interno di questo strumento troverete la parte che riguarda l'impiantistica e poi la parte a valle che riguarda la scelta delle modalità di raccolto. Il porta a porta piuttosto che il sistema diverso per le fasce che non sono densamente urbanizzate e l'altra cosa importante che prevede propone una diversa impostazione delle aro per come erano impostate con la legge regionale. Quindi anziché tre aro noi proponiamo quattro aro inserendo l'area dell'agrecanica e dando una sorta di disegno proprio diverso per individuare la quarta aro nell'area grecanica quindi la suddivisione per ovviamente migliorare ed efficientare il servizio. Questo strumento nasce dalla concertazione che è stata molto molto così lunga e faticosa perché abbiamo incontrato tutti i sindaci, tutti i comuni, tutti i territori e questa versione definitiva ovviamente ci dà la possibilità di poi arrivare alla versione esecutiva. All'interno del piano sono state anche inserite quella che tutta la programmazione che la città metropolitana ha proposto sul piano nazionale di ripresa e resilienza che dovrà vedere la luce nei prossimi mesi per rafforzare il sistema di trattamento della parte differenziata dei rifiuti perché il dramma è che oggi nella nostra città metropolitana ma in generale un po' in Calabria spingiamo sulla differenziata ma impianti pubblici capaci di trattare la frazione differenziata non ce ne stanno.